tutto quello che vedremo con la price action è lavorare in maniera ben pianificata ben razionale perché questo tipo di trading ci permette di fare ciò quindi se noi oggi proviamo a fare un trading non abbiamo dei risultati efficaci capite l'emozione come si defocalizza facilmente da quello che il nostro piano quindi come impostata la nostra mente grazie per la visione